il referendum è concluso la democrazia si è espressa e il popolo ha deciso sì ma non è che io potevo far vincere i cinesi cioè volevo dire dopo l'obbrobrio di gioco che ha tirato fuori l'anno scorso non è che io potevo riomprar un altro gioco della playstation 5 e quindi ribellione doveva essere e ribellione sarà quasi gaming stagione 3 ebbene sì molti di voi già già lo sanno perché hanno seguito il sabato del quasi gaming sabato scorso su twitch e quindi hanno avuto questa rivelazione quest'anno si giocherà su xbox series x è un po il giusto compromesso perché da un lato si continua a fare la ribellione per chi comunque non si è ricomprato un altro gioco e playstation 5 ma dall'altro lato ho accontentato la maggioranza di voi che voleva la next gen tutti i dettagli retroscena dell'acquisto si sono raccontati su twitch ma niente di particolare li trovate lì se volete andarci a dare un occhio la cosa fondamentale è questa signori che le i roster e le le matrici le valutazioni sono le stesse sorprendentemente e quindi noi possiamo continuare con la nostra squadra ci possiamo tenere la marcus oldridge ci possiamo tenere lo sboccato copo huseschi cantarello c'è qua giù anche dove è andato a rifinire scarse edwards si può continuare a tenere sempre i soliti scappati di casa e questa è la rotazione che io ho pensato per questa giornata michael carter williams per non per meriti suoi perché poi ragazzo non la potene in mano ma non sanno altri play jj reddick cinese jj reddick gli avevi fatto tirare niente settimana due settimane fa con la switch voglio vedere ora c'è comunque ane tiro a tre bathum oldridge l'ho spostato dalla grande perché non aveva buscate contro de marcus causings da centro e quindi spazio a tony bradley e secondo me è l'uomo che ci può dare la svolta in questa partita scarsen dalla panchina ma con più minuti rispetto a michael carter williams l'ho sboccato che però a questo giro io penso che gli abbiano fatto la bocca perché quella era una caratteristica della grafica di switch e quindi boh vedremo e poi c'è ugo sopra nomina rinominato ribattezzato ugo cantarello e poi ci abbiamo po us eschi da 18 minuti roba da chiodi robin lopez questa la nostra squadra si gioca fuori casa so emozionato come se fosse la prima volta perché di fatto è è la prima volta che si gioca su xbox series x non sapevo se ne in mano manco i joystick qui non ho mai avuto e non so quello quello è un po di differenza bisogna essere sinceri la grafica ce l'ha io sono affezionato alla nintendo switch però sono un po di differenza comunque sia la si nota non so come sta andando il volume perché è la prima volta non so che cosa tanti posti voti è distanziamento sociale c'avete nella capitale qui non so petrucci da voi che percentuale è riuscito a raggiungere ma un m sa benissimo la cosa noi si gioca fuori casa se perso all'overtime nella prima partita poi sembrava essere annullata poi invece è stata mantenuta loro ogni frattempo hanno pescato il giocatore io gli invidio di più che è tj mcconnell e quindi niente insomma siamo pronti siamo a inizio stagione ancora la cavalcata è lunga bisognerà prendere tantissime decisioni osservato speciale numero uno è demarchius causings che ci ha asfartati due settimane fa ma questa volta su di lui ci sarà tony bradley e qui c'è la prima maleficissima non so neanche stoppami la prima maleficissima novità e cioè che lui la visuale no però diretta eh ma tanto non sei ricorda non c'è niente da fare ragazzi e secondo me non sei ricorda neanche quest'anno ma ti rendi onto ti rendi onto con tutte con la switch si ricordava la visuale e invece con le next gen anche il secondo anno di fila con tutte le migliorie niente lui non c'è versi nel frattempo subito tj mcconnell ma è arrivato tony bradley come una furia gli ha tirato un ringollone e nemmeno va bene tony bradley così ti voglio dargliela premialo in attacco niente non sa giocare lui non solo non è un playmaker non sa proprio giocare comunque 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 difensivamente ragazzi siamo una roba purtroppo non si può tenere in mano e perché non sa il talento di niente ma ma difensivamente siamo una roba allucinante il primo pallone pettoni bradley il mio pupillo vai pupillo 2 a 0 c'è i rossi un po' sparati in questo campo mi pare a me non lo so se è colpa di gioco o dell'aggeggio lì che che manda il gioco ai computer non lo so intanto se chi ha fatto tre punti di capo wayne ellington meno uno tira gli tira gli ti battezzano peggio di rondo ma sono ovvia fino a che noi si continuano a tenere mai con carter williams non ci si mette mano in queste partite vai la maria attenzione jj da tre punti il portale cinese e c'ha a e vai così batum fino in fondo arresto e tiro ignobile da un centimetro dai canestro ma vale comunque il vantaggio 4 a 3 attenzione attenzione a tj ma c'è chi chi è la marcus bada come lotta a guerri i cazzotti la rissa niente va bene siamo agguerriti è un mismatch è un mismatch la marcus porta lo spalle a canestro cuscina te lo a fuoco lento niente noi si va da jj reddick tiro dalla media ma purtroppo a is the new f vero cinese attenzione 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 a codesto pick and roll e se si mette in moto de marcus causin c'è un problema c'è passato sopra due settimane fa soprattutto nell'overtime l'errore il rimbarso di tony bradley il pupillo dagliela pupillo dagliela pupi niente si è palleggiato sui piedi ma posso pigliare cinciarini per cortesia al porto di odesto non è che chi è cinciarini me lo date cinciarini però io non ho capito perché noi si lascia sempre libero da tre l'unico di loro che sa tirata tre non mi sembra una grossa fatia ma chi c'è doc rivers lì dietro attenzione signori è entrato scarse n edwards ora comincia veramente la nostra partita ora si sono messi quelli boni in campo è entrato scarse n edwards cantarello reddick importa cinese ascolta noi bisogna fare una chiacchierata proprio vis a vis perché non si può andare ma io capisco intanto non capisco che tu non gli abbia dato a più perché si parla comunque di jj reddick e va bene ma anche se gli hai dato a non è che coa lui non può fare canestro mai nella vita è intanto è entrato anche tanassi santeto cupo e c'è subito bojan bogdanovic che gli ha tirato una randellata ancora possesso washington wizards hanno sette secondi per chiudere l'azione c'è bojan bogdanovic e prova a fargli la macumba ma scarsene che è il giocatore scarsene edwards che poi lancia bogdanovic in campo aperto come gasol attenzione perché qui c'è scarsene che deve inventare il resto e tiro dalla media non va a lotta a robin lopez e la figlia watanabe purtroppo non si fa mai canestro guarda guarda c'è i reddick però contro watanabe come l'ha tenuto come gli ha fatto chiude il palleggio ragazzi siamo agli ultimi otto secondi dell'azione non ci si merita questo canestro perché si è difeso bene jj reddick su watanabe che deve forzare da tre niente rimbalzo di robin lopez ultimi dieci secondi di primo quarto tra l'altro c'è ugo cantarello in contropiede ugo cantarello la bimane del sei pari sei pari ai mini basket ti direbbero ma non sa giocare comunque va bene difendiamo non chiappiamo a nesso scarsene ci ha messo la mano scarsene sei pari allora di questo passo si fa 25 punti a fine partita io non ve lo volevo dire siamo a dei livelli abbastanza bassi ma è normale siamo all'inizio della stagione attenzione perché è entrato george miure san junior badalo laggiù quanto è arto anche in prospettiva è più alto di her che cosa è successo tre secondi offensivi di la marcus oldridge va bene volevo capire come l'aveva messo pokus eschi se l'aveva messo da tre o da quattro mi sembra da quattro con la marcus oldridge centro e pokus eschi alla gra non lo so che re hai fatto un macello occhio 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 perché sei in area pokus eschi t'ha fatto sartare intanto noto con dispiacere ma la marcus oldridge con i braccio di richiamo noto con dispiacere che a naderra gliel'hanno fatta la bocca ma continuerà a essere comunque lo sboccato purtroppo è tornato michael carter williams che qui se la sta palleggiando da sei ore in mano ha trovato la marcus oldridge arresto finta si butta indietro riapre sboccato si va sempre da scarse in edwards alla fine per provare a inventarsi qualche cosa arresto e tiro impiccato sui 24 lo otta niente occhio 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 è rinare a george miura sant'è andata di lusso si tira coi 27 per cento loro coi 21 e niente niente è intervenuto casola alla fine per negare i due punti a michael carter williams che ora potrà fare un bello zero su due ai tiri liberi per rimarcare ancora di più la sua incompetenza totale a giocare a questo giochino è tornato batum probabilmente l'ha messo da quattro spero che non abbia levato pocuseschi ora vediamo no pocuseschi c'è e addirittura michael carter williams ha segnato in meno uno ci si fa una volta ogni tanto a buttarla di dentro dai canestro scarse ne gliel'hanno toccata gliela rificchia niente si è perso palla un'altra volta mi ci si è perso ellison con tutti quelli che si potevam perde si è perso ellinton no è ellison ellinton che è l'unico e tira no 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 lui deve smette lui proprio deve smette si deve ritirare altro che si deve proprio smette l'errore di de marcus kausens il rimbarso di batum finchè gioca michael carter williams noi non sa la minima speranza di potersi gioca questa partita c'è scarse ne edwards ancora in palleggio arresto tiro importante dentro e fuori guardalo guardalo come si erge pocuseschi a rimbarso george miure san junior il problema è che c'è ancora michael carter williams siamo agli ultimi 14 secondi dell'azione scarse ne fino in fondo è sfortunatissimo il rimbalso di kaminsky scarse io ti sto proteggendo è ma per ora hai fatto schifo no quanto michael carter williams ma c'è mancato poco fallo di oltrici e siamo sotto di sei che se si fosse una squadra normale sarebbero due possessi ma considerando che noi si fa un canestro ogni morte di papa è difficile provare a rientrare trovato jj reddick nell'angolo il quarto di campo addirittura in isolamento il blocco di batumbe in penetrazione reddick poi indietreggia ancora il palleggio aperto so in due in un angolino fortuna che t'hanno fatto fallo tiro di belinelli a noi era scarse ne edwards ragazzi si è acceso il depresso a scarsene il problema è che se leva scarsene torna mai col carter williams e te lo raccomando questo si è ritrovato sotto canestro contro ugo cantarello messonato in cellulare ma cantarello gli ha sconsigliato di proseguire negli intenti trovato mi hai liuc da tre punti errore rimbarso batumbe si fa chi fa più schifo e per ora si sta vincendo noi nell'angolo o hoge ancora cantarello per scarsene non sa proprio una minima idea di che cosa possa essere la palla canestro cantarello ancora uno contro tutti se risiamo all'ultimi dieci secondi nell'angolo lopez reddick tiragli jj tiragli che c'hai a oh cinese malevio meno tre jj reddick o com'è come non è sa addirittura quasi il possesso di pareggio ridendo e scherzando e c'è jj reddick che è appena segnato io tra l'altro sono particolarmente contento di averlo in squadra per quello che sarà il suo giro d'onore visto che nel frattempo si è ritirato batumbe con l'errore ma c'è robin lopez con il rimbarso e la bimane di meno uno teniamo questi ultimi nove secondi per il morale per l'orgoglio per l'inerzia della partita tre secondi due uno va bene rimbarso di scarsene siamo sotto ma siamo vivi so curioso anche di vedere come come hanno strutturato l'intervallo della partita ora qui c'è questi solidi vedi che ti vengano addosso poi c'è qualche replay randomico ma ci sarà lo studio come come no statistiche veloci scarsene edwards il miglior giocatore perché ha preso niente sono belle andate via così e non ho pigiato niente neanche a questo giro ma perché cioè e quindi l'intervallo della partita è veramente questo mezzo secondo di statistica pronti via si riomincia complimenti cinese proprio next gen questo intervallo bella palla bella palla per la marcus oldridge siamo avanti ma allora io se mi chiedeste come si è fatto adesso avanti sinceramente non lo so perché noi la palla canestro non si sa neanche minimamente che cosa sia il fatto è che loro non so se a causa di sony bradley ma sinceramente non credo non stanno più dando neanche un pallone a de marcus causings e siccome l'avevano recuperata e vinta in cui modo l'altra partita sono un po' bloccati anche loro ma difficile ho detto tiro la marcus oldridge e manco in bid se lo pigliava ma veramente ma ho visto quello che ho visto ma in meno difendi volevo dire ai meno difendi provaci mettiti di traverso no 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 bisogna levarlo via bisogna ora gli fa anche fallo bisogna levarlo assolutissimamente è la cosa peggiore proprio la disgrazia più grande ti possa capitare su un campo da palla canestro occhio 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 eh lo sapevo lo sapevo togli il mio pupillo ragazzi è l'unico che sta provando a tenere in piedi la baracca siamo sotto di 5 2 30 alla fine del terzo quarto purtroppo è tornato michael carter williams che non c'è niente da fare via niente eh va bene va bene comunque ma ora che l'ho visto da vicino ma era tony bradley quello che pareva uguale a tim duncan era lui sai che l'avevano fatto quasi uguale a tim mi pare lui era lui tim duncan dei poveri non lo so cosa è successo time out tra un tiro libero e l'altro questa è una novità mi sbaglio non c'era mai stata negli anni precedenti vedi cinese nelle piccole cose eh allora si è preso un discreto parziale c'è scarzen che prova a inventare nell'angolo per bojan bogdano che ugo è terribile l'ha tenuto rondo addirittura da tre punti svitati svitati sul fondo va bene così robin lopez bisognerà dargli più minuti a robin lopez e io belle visto ne mette due c'ha anche il fallo subito e ci avrai tiro libero attenzione perché nel frattempo è tornato anche george miuresan junior 20 pari occhio 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 ci vorrebbe giorgio giorgio miuresan e gli ha preso il tempo robin lopez la muraglia difensiva attenzione ragazzi perché io non lo so come è possibile ma noi sa addirittura il possesso del vantaggio nell'angolo ugo hantarello non hai preso niente ugo hantarello attenzione perché codesto tira arriva il blocco la tripla è importante non va rimbarzo di george miuresan 20 a 20 si deciderà tutto nell'ultimo quarto ah l'assist della partita è uno che gliel'ha passata mezz'ora prima quello si è fatto tutto il campo in palleggio e poi ha fatto canestro è assist della partita e noi se c'è uno che tanto tanto un pochino quanto e niente vuole tirare noi ci si dimentica di quello lì guarda guarda mai col carter williams non riesce neanche a dalla in mano a un suo compagno a gioco fermo ma lo vedi che pezzi è o no occhio 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 perché sei in zona focus eschi ci hai avuto paura la riaperta è entrato anche tan assi santeto cupo siamo ritornati sotto di tre ragazzi attenzione perché la scorsa partita nell'ultimo quarto in particolare e poi nell'overtime ci siamo sciolti come neve al sole ma dove fai ma me lo dici dove vuoi andare con codesto palleggio l'hai sgonfiato il pallone in questa azione l'hai tenuto te tutti il tempo senza aver compicciato nulla poi c'è robin lopez ancora con eleganza con maestria con tecnica e esperienza meno uno te le spalla lopez attenzione 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 gliel'ha mandata e privuna george miuresan junior che giocatore che artezza bobanone sarebbe fiero di te bisogna assolutamente dagli più minuti perché quella ha preso e l'ha levato dopo una roba di genere capisci bisogna dare più minuti a lui più minuti a robin lopez e a me mi dispiace ma bisognerà anche toglie un po di minuti alla marcus oldridge perché sarà elegante sarà tecnico ma non fa proprio nulla vedi subito ti ha amato in causa punto nell'orgoglio la marcus oldridge per il meno uno ma guardalo non ha difeso non ha preso il rimbarzo fortuna che è arrivato tony brelle il team duncan dei poveri da dietro che ha pulito ogni cosa attenzione perché è terribile c'è mancato niente va bene dagli la gege reddiche nell'angolo sei anche senza bocca ma me lo dici in dove vuoi andare reddiche ancora dentro è un mismatch contro rondo la marcus oldridge se l'hai mangiato vivo siamo avanti bravo bravo la marcus oldridge l'hai stoppato sei uscito come benji di holly chi era chi era benji portiere è la holly non me lo ricordo più attenzione perché nel frattempo lo sboccato recupera i pallone ragazzi sa un'occasione e roba da chiodi bisogna gestirla dentro ancora però abdel nader lo sboccato i più tre giochiamo con calma giochiamo con calma questo potrebbe essere il possesso chiave della partita l'uscita dai blocchi purtroppo di michael carter williams che non ha fatto una cosa buona che sia una nella partita vai la marcus oldridge ma perché è stato lì mezz'ora a aspettare che lo stoppassero va bene comunque si è messo un parziale che roba da matti 10 2 più 5 1 e 39 loro loro fortunatamente per noi non hanno capito questa cosa che se dessero tutti i palloni a de marcus cousins noi si smette proprio si chiude baracca fortunatamente non l'hanno capito occhio che siamo nell'ultimo minuto e loro cominciano a nell'ultimo minuto loro cominciano a dalla cousins e noi bisogna smette però stavolta c'è tony bradley che giocatore i team duncan dei poveri e purtroppo è una lotta impari perché loro hanno tj mcconnell che è uno dei migliori playmaker del sommerso nba e noi ci siamo michael carter williams e quindi chiaramente tj mcconnell ne porta sempre due michael carter williams fa queste cose a tutto campo ragazzi piano piano che se si tirano fuori due punti quest'azione qui va a finire bene grampa bravo bravo michael carter williams bravo guarda la faccia come ha visto ha visto e gli ho data io e non ci vedevo manco io invece mi chiaramente ragazzi a questo punto va bene tutto tranne la tripla cioè concediamo tutto ma io ma che ma che ragiona fai io con questi vi ora poi non ci sa questo che che liberi non li sa tirà gliela vogliamo dare a jj reddick per cortesia perché noi si mette soltanto michael carter williams a ricevere il codesto pallone e non può tirare no via via va levato va levato hai meno uno uno per dare il doppio possesso uno ti chiedo solo uno il doppio possesso uno niente e si perde e se si perde bravo tony bradley bravo va bene o guarda e michael carter williams come si fa tra a isto e questo è un centro e michael carter williams non sarebbe il suo mestiere sarebbe il tuo comunque sia 34 a 29 ultimi due secondi deve tirare burks contro batum e non va ragazzi uno so come si è fatto ma si è vinto noi e allora la next gen comincia con una vittoria nonostante 2 su 8 da 3 punti nonostante il 57 per cento ai tiri liberi perché loro non hanno mai fatto canestro e noi si è anche avuto un discreto dominio dalla panchina 14 lo so che non è possibile ma è successo 14 a 3 il miglior realizzatore della partita quota 10 è addirittura la marcus oldridge perché loro hanno a 9 ellinton perché si è perso tre volte sui tiro da tre punti e qui come farò ora che cosa ho pigiato volevo ordinarli cosa ho pigiato come si fa cosa devo pigiare per ordinarli ordinarli oh eccoci oh eh vedi allora i migliori imbalzisti sono frank kaminsky e michael carter williams e i miglior assistman sono tj mcconnell e michael carter williams cioè capito che cosa mi tocca vedere a me nei recuperi invece abbiamo scars ed edwards ma tj mcconnell che ha già una gran partita anche se non ha assegnato nelle stoppate 4 di la ma 4 di la marcus oldridge e dovremo rivedere alcune considerazioni che ho fatto durante la partita a quanto pare e quindi l'abbiamo portata a casa è la prima vittoria della stagione 34 a 29 eravamo sotto in classifica perché avevamo perso la prima e quindi ci vale il doppio dei punti si passa subito avanti 4 a 1 chiaramente non vale nulla perché siamo soltanto dall'inizio però è un già un bel modo no e la cosa meno buona è che c'è purtroppo michael carter williams che è primo nella categoria degli assist primo nei recuperi e al momento sarebbe a pari merito nella classifica degli mvp con the marcus cousins sembrerebbe essere il nostro miglior giocatore penso che questo possa esprimere al meglio le condizioni in cui siamo messi considerando il fatto che noi si è fatto 34 punti e si è vinto loro avranno 6 estrazioni loro si sono fermati a 29 quindi noi se ne ha due capite bene che con due io non mi aspetto grosse ose questo l'anno scorso se non vado errato era era un silver guarda guarda quanto meno sei un play mi va bene o si ragazzi è andata di lusso la scommessa e insomma dai tutto sommato non mi pare che ci si possa lamentare ora a loro glielo belli aggiunti e hanno pescato tanta roba perché insomma Aaron Gordon lo stesso Bledsoe lo stesso deck insomma si sono rinforzati abbastanza qui vedete la loro squadra aggiornata che rispetto a noi sinceramente è più forte cioè è inutile che sta a chiacchierare però anche noi in il nostro piccolo con due sole pescate insomma non c'è andata male allora innanzitutto si è pescato George Hill e fammelo subito levare questo qui perché non lo sopporto più e metto George Hill titolare anche se a lui tutto sommato i numeri gli danno ragione ma io anche solo per soddisfazione personale George Hill titolare poi vedremo i minutaggi andranno sistemati e poi si è pescato la scommessa e sapete io sono un grande stimatore della scommessa storicamente proprio negli anni il problema è che non si può tenere perché nel ruolo di centro l'hai messo centro vero cinese l'ha messo centro i cinese nel ruolo di centro noi avendoci la Marcus Aldridge e un silver si possono ottenere massimo due bronze quindi bisognerebbe decidere ora a me non mi era dispiaciuto né Robin Lopez né Tony Bradley ci sarebbe anche un'opzione estrema che mi verrebbe sarebbe un azzardo però in teoria se si libera la Marcus Aldridge si possono ottenere tutte e tre Lopez Bradley Davis non lo so io vi apro facciamo una cosa vi apro domani il ballottaggio ce li metto tutte e quattro e vi chiederò chi eliminare tra questi quattro voi volete dovrete votare quello che volete eliminare così che insomma sarà il popolo a a decidere a prendere questa decisione poi mi occuperò dei delle delle rotazioni sarà così da ora in poi cioè i ballottaggi i sondaggi verranno aperti il giovedì cioè il giorno dopo rispetto all'uscita della partita dell'episodio settimanale nella scheda community qui del canale su youtube voi potrete votare dire la vostra e così andremo a comporre il roster che proverà insomma settimana prossima ci saranno addirittura sei punti in palio se dovessero vincere loro niente questo è e ormai ci siamo sistemati con l'xbox series x speriamo che non ci siano altri problemi se così non fosse l'appuntamento sarà comunque settimana prossima mercoledì quasi gaming stagione 3 la ribellione invece sabato su twitch il sabato del quasi gaming è cominciata da pochissimo da una giornata la stagione 2 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 14